Cos'è un trasportatore di fibrosi cistica? Un portatore di fibrosi cistica è una persona che ha la mutazione che causa la fibrosi cistica nei suoi geni ma non ha la malattia. Ogni persona ha due geni del regolatore transmembrano della fibrosi cistica. Se c'è un gene del regolatore transmembrano della fibrosi cistica normale e l'altro è mutato, la persona è un portatore. Una persona i cui geni del regolatore transmembrano della fibrosi cistica sono entrambi mutati. avrà la fibrosi cistica. Affinché un bambino possa nascere con fibrosi cistica, il bambino deve ereditare un gene mutato da ciascun genitore. Ciò significa che un bambino non può nascere con fibrosi cistica a meno che entrambi i genitori non siano portatori. Se il bambino eredita solo un gene transmembrano mutato di regolazione della fibrosi cistica dalla madre o dal padre, il bambino sarà un portatore di fibrosi cistica. Anche se entrambi i genitori sono portatori, il bambino non necessariamente finirà per avere fibrosi cistica o addirittura essere portatore di fibrosi cistica perché il bambino potrebbe ereditare l'unico gene normale da entrambi i genitori. Non ci sono rischi per la salute associate all'essere un portatore di fibrosi cistica. Molte persone vanno per tutta la vita senza nemmeno sapere di essere portatrici. Le coppie che stanno cercando di concepire o che sono rimaste incinte di recente possono essere sottoposte a test genetici tramite saliva o sangue per determinare se uno di loro ha un portatore. Dal momento che esistono molti tipi diversi di mutazioni, alcuni di quelli rari potrebbero non essere rilevati dai test del portatore. Se entrambi i genitori sono portatori, il feto può essere testato per la malattia mentre ancora è nel grembo materno se i genitori lo desiderano. Chiunque può essere un portatore di fibrosi cistica, ma è più comune per i caucasici avere il gene mutato. Le persone di origine asiatica sono le meno inclini a portare il tratto. Diversi portatori hanno diverse mutazioni, che possono portare a diversi sintomi e livelli di gravità della fibrosi cistica per un bambino nato con la malattia. I bambini nati con fibrosi cistica necessitano di cure mediche speciali, che è una delle ragioni per cui molti genitori scelgono di scoprire se sono portatori di fibrosi cistica prima della nascita. Se entrambi i genitori sono portatori e il bambino ha fibrosi cistica, i genitori possono prepararsi consultandosi con medici e specialisti per preparare il trattamento che il bambino richiederà. Sebbene non vi sia una cura per la fibrosi cistica, molte persone con la malattia vivono nei loro 40 o 50 anni con cure e farmaci adeguati.